La Rassegna Stampa di Fano TV Da capire se si è deciso di sospenderla Nel senso che la messa del Papa era soltanto in via del tutto eccezionale Per il periodo che stiamo vivendo Quindi credo che abbiano deciso di non trasmetterla più E quindi dovremmo tornare già da domani all'orario consueto Quindi alle 7 del mattino con la Rassegna Stampa in diretta sul canale 17 Andiamo a vedere però il Santo del Giorno Oggi è giovedì santo Il giovedì santo si celebra il rito della benedizione degli oli santi Durante la messa del Crisma Ricordando l'ultima cena del Signore Dando così inizio oggi al triduo pasquale Il sole è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 19.45 minuti Andiamo a vedere il tempo Il tempo per la giornata di oggi Questo è il bollettino della protezione civile delle Marche Per oggi è previsto cielo sereno poco nuvoloso Con temperature in lieve aumento nei valori massimi Anche domani cielo sereno con temperature in aumento E sabato 11 aprile temperature in aumento Con cielo sereno su tutta la regione Tempo stabile anche nella giornata di Pasqua e di Pasquetta E adesso i titoli delle notizie più importanti Sul Corriere Adriatico e il resto del Carlino Cominciamo dal titolo del Corriere Adriatico L'edizione di Pesero Meno positivi è la prima volta Impresa e commercio Riaprire la buona notizia Boom dei dimessi e dei guariti Cale il totale dei contagi attuali I tamponi record 913 in un giorno Ieri 17 morti 669 in totale in tutta la regione Una inchiesta, nostra inchiesta del Corriere Adriatico Tra categorie economiche e finanza Selci dell'ABS dice Il governo ci faccia riaprire dopo Pasqua Questa è l'unica strada In tanti sono a chiedere di poter riaprire dopo il 13 Quindi fra qualche giorno Mascherine inefficaci La rabbia dei vigili di Pesero Come garantire la sicurezza di chi è posto a tutela della sicurezza L'interrogativo racchiude i dubbi E le perplessità sollevate dai sindacati Che curano le questioni della polizia locale Vedremo dopo che cosa è arrivato Sul tavolo dei vigili Praticamente delle mascherine tipo Swiffer Quello che serve per pulire i pavimenti Avete capito Ma il tampone Scusate ma il timore è per il rischio della fase 2 Dice il primario I rischi ci sono effettivamente Ma analisi dei tamponi A Pesero scende in campo il laboratorio privato A Fano respiratore manuale Ora automatizzato Invenzione per il 118 E poi a Pesero è tornata a casa La giovane bloccata In Groenlandia E di taglio basso Sempre in prima pagina Sul Corriere Adriatico Dal Bramante Il comune va all'ex In Pdap Gli uffici Sotto sfratto Il trasloco Arriverà entro il mese di giugno L'operazione di liberazione dell'ex Bramante Dagli uffici comunali Sotto sfratto Dunque è stata avviata Il resto del canino di Pesero Apre con la storia Davvero incredibile Di questi tre amici Morti dopo la serata insieme Giangio Del Vecchio Dice e racconta Ero con Ranocchi Copparoni e Cecchini Loro non ce l'hanno fatta Io invece sì A centropagina Più guariti che contagi La buona notizia Per la prima volta Dall'inizio della crisi In città Pesero Tra 80 e 100 vittime Frantasma Ora li chiamano Probabili Covid Ed ecco qua La mascherina Stile Swiffer Vigili urbani La beffa Delle mascherine Professoressa Invece Raffaelli Deceduta Quell'addio In punta Di piedi Case di riposo Vogliamo la verità Quattro vittime Anche a saltare La chiesa Il vescovo di Pesero Dice La città è colpita Ma sta reagendo Il messaggio pasquale Di coccia Ecco il programma Della settimana santa E poi il basket In lacrime Ciao Ezio Perdiamo un uomo santo Da Bianchini A Mike Silvester L'omaggio a Guruli Il massaggiatore Degli scudetti Le pagine interne Il boom Dei dimessi E dei guariti Meno positivi La prima volta Cala il totale Dei contagi attuali Grazie al raddoppio Dei pazienti Usciti dagli ospedali O dichiarati negativi Terzo picco superato Dopo i ricoveri totali E in terapia intensiva I tamponi record 913 Morti in tutto Sono 669 Il contagio rallenta Ma la vera incognita È il ritorno al lavoro L'analisi di Michele Tempesta Primario di terapia intensiva Di Marche Nord Calano i ricoveri E i pazienti Sono in condizioni Meno disperate Ma non è finita Intanto La riorganizzazione Degli ospedali A Galantara Si attende L'arrivo di nuove forze E la donazione Uova di Pasqua Alla Santa Croce Di Fano Io medico Cavia guarito Sperimentare Ha funzionato Benefici col farmaco Per l'artrite Ma occhio Perché non è così Per tutti Romolo Mannella Dottore Del pronto soccorso Di Fano Dice Le cure Non davano miglioramenti Dovevo però rischiare Alla fine È andato Tutto bene Intanto Intanto in strada Di cacciatori A Pesaro C'è Il drive Per controllare Appunto E fare i tamponi Ai guariti Il checkpoint Dei guariti Ieri Ne sono stati eseguiti Altri 80 In strada Dei cacciatori Gli operatori Dell'Asur Erano al lavoro Dalle prime ore Del mattino Per eseguire Direttamente In auto Il doppio tampone Ai positivi Così da accertarne La negatività E questo Va fatto Va fatto Nei tempi stabiliti Anche perché Altrimenti Se si tarda Anche per loro Devono rimanere in quarantena Sono obbligati A stare Assolutamente In casa Non possono uscire Nemmeno Per andare a fare la spesa Perché quando si è positivi Fin quando non c'è La dichiarazione Ufficiale Che sei guarito E questa arriva Solo dopo il secondo tampone Chiaramente queste persone Come se fossero In carcere Dentro casa Obbligatoriamente Dentro casa Ecco perché comunque Bisogna fare Nei tempi stabiliti In fretta Per cercare poi Di ridare Come dire La giusta libertà Anche alle persone Che sono guarite Chi utilizza la mascherina Non emette virus Nell'aria Nardella Docente di igiene Alla Politecnica Il professore Nicola Nardella Docente di igiene All'università E dice Sottolinea L'importanza Dei dispositivi facciali Con un post Rilanciate Le conclusioni Di uno studio internazionale Pubblicato Sul Nature Dunque Dall'uso prescritto Solamente per i malati E per chi li assiste All'impiego Generalizzato Invece Per tutti Coloro Che escono di casa E l'evoluzione Della regola Di profilassi Applicata Alle mascherine Facciali Nei primi 45 giorni Di emergenza Conclamata Del coronavirus Che segna dunque L'inizio Per la prossima fase 2 Quella della Riapertura Delle attività E questo studio Ha preso in considerazione 246 pazienti Dei quali 124 Indossavano Il dispositivo Di protezione E 122 No I risultati Ottenuti Hanno dimostrato Che l'efficacia Varia Seconda dal virus Che viene Considerato E poi tutti I dettagli Nell'articolo Del Corriere Adriatico Che porta la firma Di Lorenzo Furlani Vigili urbani A proposito Di mascherine Queste sono quelle Che hanno ricevuto Stile Swiffer Guardate Eccole qua Le hanno trovate Ieri mattina In ufficio La protesta Dei sindacati Grazie al Comune Ma vogliamo sapere Se sono Di qualità Intanto domani A Pesaro Le consegne Di quelle gratuite Si inizia Dalle frazioni Poi toccherà I quartieri E al centro storico Il Comune di Pesaro Lo ricordiamo Andrà a distribuire In tutta la città Porta a porta 100.000 mascherine Ai cittadini pesaresi Sarà il sindaco A fare la prima Consegna simbolica Ad una famiglia Di Monte Cicardo Per suggellare L'unione Fra i due comuni Dopo il referendum Spoon River Di Giangio del Vecchio Ho passato notti Tra i fantasmi Collegati Alla sua figura Il datore di lavoro Giovanni Ranocchi Il collega Massimiliano Copparoni E Gegè Giordani L'amico di una vita Raniero Cecchini Ci siamo visti Da lontano All'Ex Calibur E racconta E racconta Quello che ha vissuto Il calvario Spedaliero Insomma Tutto quello Che si può Immaginare Che si possa raccontare Qui Le fotografie Di coloro Dice il vescovo L'arcivescovo Piero Coccia Si prepara una Pasqua Di speranza E' accorato Il messaggio pasquale Dell'arcivescovo L'esperienza Del coronavirus Ci aiuti Anche a riscoprire Il bello della vita Nessuno conosce Il futuro Neanche io Ma tutto questo Ci faccia apprezzare Il bene Donato E poi 200 colombe Per medici E infermieri L'iperconad Dona dolcezza A chi è in prima linea Questi sono giorni In cui vengono Appunto fatte Tante donazioni Tanti piccoli regali Sant'Arcangelo Invece Siamo sulla pagina Di Fano Del Carlino Ha giudicato l'appalto La progettazione Ed esecuzione Della fabbrica del carnevale Casa del jazz E ostello della gioventù E' andata Ad una società romana La progettazione A giudicare Le proposte tecniche Tecnico-economiche La commissione Proceduta Dall'architetto Restucci E' composta Dagli architetti Fabio Polonara E Sergio Sciamanna A caratterizzare La gara Per un importo Di 732 mila euro E' stato il ribasso Proposto Da tutti i partecipanti Tutto prenderà forma Dalle idee creative Dell'architetto Italo-Rota La progettazione Del Sant'Arcangelo Ha detto Massimo Seri E' complessa Ma chi ha partecipato Alla gara E' ben strutturato Per poter affrontare Il lavoro Al meglio E poi la pagina Di Fano invece Del Corriere Adriatico Siete voi Il migliore esempio Questa Italia Non si piega Sono parole Tratte da una lettera Di ringraziamento Che ha scritto Il sindaco di Fano Massimo Seri E che ieri Ha letto Davanti Di fronte Alla nostra telecamere In visita Ai reparti Del Santa Croce Di Fano Una lettera Che è andata E che ha rivolto E che ha scritto Di suo pugno Per i medici Gli infermieri Gli operatori Sociosanitari Gli autisti Di ambulanza I volontari Della sanità Che sono Come ha detto Appunto E come ha scritto Il migliore esempio Dell'Italia Che non si piega E che si rimbocca Le maniche Al servizio Del prossimo E c'è stata Questa Questa consegna Questa consegna Simbolica Agli operatori Che so Che vivono Questo momento difficile Intanto Nella fotografia Che pubblica Il Corriere Il sindaco Seri Che ha incontrato Anche il direttore Generale Dell'azienda L'ospedale Marche Nord Maria Capalbo Lo scritto In seguito Sarà recapitato Personalmente Ad ogni operatore In servizio Poi ci sono Delle difficoltà Per i buoni spese L'assessore Dice però Non mi risulta Il termine Per presentare domande Scade alle 13 Priorità All'accesso Digitale Cioè coloro Che utilizzano Il computer Per fare queste Istanze Queste richieste Di aiuti Sanificatori Invece per i mezzi Delle forze dell'ordine Consegnati dal comune di Fano Ai vigili E alla protezione civile Dunque Trasforma l'ossigeno In ozono E senza Che si debba ricorrere Ad additivi chimici Dunque fa giustizia Di virus e batteri Si chiama Sanificatore all'ozono Ed è in grado Di bonificare Un'auto In un quarto d'ora E un furgone Oppure un'ambulanza In mezz'ora E verrà dotato Verrà donato Appunto Alla protezione civile Alla polizia locale E alla Croce Rossa Perché così potranno Da questo momento in poi Potranno servirsene Il racconto invece Di questa ragazza Che si chiama Martina Fattori Sul Corea Adriatico In Groellandia Dice lei Ero libera Pesaro Non l'ho ancora vista È riuscita a rientrare Dopo tre giorni di viaggio E aver cambiato Sette aeroporti Appena arrivata in città La giovane ricercatrice Si è dovuta mettere Obbligatoriamente In quarantena Ho dovuto salutare tutti in fretta Ma era la sola possibilità Per Pasqua invece sotto Buono spesa Ad altre 1.100 famiglie Sempre a Pesaro Buoni spesa Per tutte le famiglie In difficoltà I soldi dello Stato Non bastano Il Comune ci mette però Una pezza Ad oggi la distribuzione Dei voucher a Pesaro A 1.100 famiglie 246 euro Di media A nucleo Volano le attività Che della città Fanno gli sconti Ora Sono 50 Mentre è stata chiusa Ieri pomeriggio La seconda chiamata Per i buoni spesa Oggi invece partiranno Appunto Le spedizioni Giovedì e venerdì Saranno consegnati I voucher Nelle case di tutti coloro Che ne hanno diritto Perché sono rientrati Nei criteri Ora Considerando che c'è Il pranzo di Pasqua Il pranzo di Pasquetta Che è vero che si farà In famiglia Non c'è la tradizione Di invitare parenti E quant'altro Eccetera eccetera L'unica cosa Che si spera E che non ci sia La corsa ai supermercati Per andare a prendere La costarella O eccetera Insomma tutto in modo Cerchiamo sempre Di fare tutte cose ordinate Perché qui È veramente Un attimo Camminiamo Su un tavolo Di cristallo Per l'analisi Dei tamponi Invece scende in campo Il Biolab Processerà i campioni Affiancando i laboratori Molecolari di Torrette Di Marche Nord Il direttore calcinale Dice reagenti Permettendo Ne possiamo lavorare Anche 400 al giorno Ma come sappiamo Il problema adesso È trovare il reagente Che scarseggia Case di riposo Invece L'emergenza Titola il corriere A cui nessuno risponde Tutte le strutture Chiedono personale E adeguate E adeguate protezioni Mentre Da Fano L'ingegnere Andrea Falcucci Con il suo prototipo Questo ingegnere Che vedete nella fotografia Solitamente In tempi Come dico Di pace Costruisce Apparecchiature Per le telecamere Supporti per le telecamere E quindi Per il cinema La televisione E quant'altro Adesso invece Si è ingegnato Nel vero senso della parola E con questo prototipo Ha pensato Agli operatori Del primo soccorso È un contributo Dice lui Operativo Per uscire presto Dall'emergenza A disposizione Della regione Dunque Rispiratore Automatizzato Su un carrello Per le riprese Mentre il direttore Di commercio Amerigo Varotti Dice Non tutti i settori Sono colpiti Allo stesso modo In attesa Del testo Del decreto Del 6 aprile Con cui il governo Ha tra l'altro Stanziato risorse Importanti Per rimettere in moto La nostra economia Attraverso la possibilità Di erogare finanziamenti A tutte le imprese Con la garanzia pubblica Quello che ormai sapete La Confcommercio Di Pesero Urbino Marche Nord Attraverso appunto Il direttore Varotti Lancia nuovamente Alla politica L'allarme Sugli effetti devastanti Che l'emergenza Da Covid-19 Sta procurando I settori più penalizzati Da questa crisi Ovvero il turismo La ristorazione E il commercio E lui dice Varotti dice Non mi pare Che ci sia ancora L'esatta consapevolezza Da parte Della politica Che la crisi Non ha colpito Tutti i settori economici Allo stesso modo Moltissime aziende Industriali E manifatturiere Molte aziende Artigiane Produttori agricoli Sono sempre state aperte E le date Del ritorno Alla normalità Saranno notevolmente Diverse I negozi Escluso ovviamente Il settore alimentare E pochi altri I bar E i ristoranti Sono chiusi Da oltre un mese Gli alberghi Le strutture ricettive Pur potendo Rimanere aperti Sono chiusi Da metà febbraio Per mancanza di clienti E i tour operator Hanno perso tutti I contratti E le prenotazioni Che scaturivano Dal lungo lavoro E forti investimenti Di promozione Fatto nei mesi precedenti Insomma Poi ci sono Le agenzie di viaggio Che sono ferme Perché ovviamente Diceva Rotti Non viaggia più nessuno Le guide turistiche Che hanno perso Tutto il lavoro primaverile Che forse È il più importante Dell'anno Insomma È un vero E proprio Bollettino Di guerra E poi ci sono Altri Ci sono Gli indisciplinati Quelli che Nonostante Il divieto Di uscire di casa Se non per motivi Che conosciamo bene I tre motivi Famosi Ci sono quelli Che non si rassegnano A stare a casa E che prendono le multe E sono multe salate Pesaro Ancora Pesaro Fano Nella provincia C'è ancora Troppa gente Nelle strade Ancora una volta Lo dimostrano Gli esiti Dei controlli Delle forze dell'ordine In 1406 Controlli Effettuati ieri Hanno portato La contravizione Di 50 Contestazione Di 59 Violazioni Circa 60 persone in giro Senza motivo Nella stessa giornata Sono stati anche Controllati 452 esercizi Commerciali Ma senza Le contestazioni La contestazione Di illeciti Dunque si continua A raccomandare Più scrupolosa Osservanza Delle restrizioni Imposte dai diversi Provvedimenti Adottati sia dal governo Che dalla regione Marche Per non incorrere Nelle sanzioni Previste dalla legge Dunque si invitano Tutti i cittadini A non spostarsi Se non per situazioni Di necessità Per comprovate Esigenze di lavoro O per ragioni Di salute E poi sotto Quei dispositivi Sono inefficaci Anche qui la fotografia Sul Corriere Adriatico Di questa mascherina Utilizzata dagli agenti Della Polizia Locale Di Pesaro E che i sindacati Ritengono inefficace Per la sicurezza La lettera È della CGL Cislewila Il Comune di Pesaro Per la tutela Dei dipendenti In servizio È stata chiesta Anche la possibilità Di sottoporre Il personale Ad uno screening Sierologico L'appello Del sindacato Tamponi Agli agenti Anche gli agenti Della penitenziaria A coloro che lavorano All'interno Delle carceri Ceriscioli Invece Dal Carlino Siamo nella pagina Di Urbino Faccia ripulire L'ospedale dal virus Il sindaco Gambini Si è sentito Con il presidente Della regione E ha dato La sua disponibilità Ha detto Dobbiamo tornare Al più presto Alla normalità La settimana santa I riti pasquali online Per tutti i fedeli Anche quelli di Urbania Una Pasqua Senza messa Per i fedeli Dell'Alto Metauro Ma è una messa Senza messa Per praticamente Tutto il mondo Camion si ribalta Ecco qua la fotografia Il conducente Rimasto ferito Un fatto che è accaduto Intorno alle 9.30 Del mattino Ieri A Sasso Corvaro E poi Il lutto Per Nicoletti CISL Università L'annuncio Della morte Di Gastone Nicoletti Ha continuato A ricevere testimonianze Come quella Di Giosef Fontana Collega e segretario Della CISL Università E poi L'opposizione Che In scia Ceriscioli Chiede verità Sulle case di riposo Il centrodestra Presenta 11 domande Sul caso Di Santa Colomba E non solo Chi ha sottovalutato L'emergenza Come dice il Governatore Chi è questa persona O queste persone Che hanno sottovalutato L'emergenza La situazione Nelle case di riposo Anche qui Ci sarà tanto Da discutere Subito dopo Finita l'emergenza Sanitaria Verso la fase 2 Subito Il piano Di azione E poi Il paradosso L'altro fronte Il paradosso Di un ospite Di famiglia Nova A Fano Ha un tumore Niente chemio Né tampone Non lo curano Senza il test Ma il test Non glielo fanno Qui i decessi Dice il coordinatore Francesco Alessandroni Che vedete Nella fotografia Il coordinatore Della casa albergo Famiglia Nova Dice qui i decessi Sono 15 Ma noi già Il 29 febbraio Avevamo limitato Gli accessi Ma ci hanno Lasciato Praticamente soli Casa di riposo Anche a saltare La situazione È molto delicata I morti salgono A 4 A Colli al Metauro 8 sono ricoverati In ospedale Sor Laura Dice ritardi Nel fare i tamponi Sono 4 gli anziani morti 8 i ricoverati In ospedale Per aver contratto La malattia 25 le persone Invece in attesa Di tamponi Dall'ultima domenica Di marzo Anche la casa Di riposo Di saltare Di Colli al Metauro Gestita dalle suore Adoratrici Del sangue di Cristo Sta facendo i conti Con l'emergenza sanitaria Il sindaco Ha chiesto Stefano Guzzi All'Asur Di dare un aiuto Anche se la struttura È privata E poi il racconto Di Mario Bartolucci 70 anni Fattorino Comunale In pensione Di falcineto Mia mamma Segregata Al ricovero Da una settimana Non la sento È disperato Al telefono Non me la passano Dice lui Vorrei sapere Se ha contratto Il virus E portarle Anche una crescita Di Pasqua E poi La pagina di falo Del Corriere Adriatico Con la rotatoria Che è stata completata Nei mesi scorsi A Belgatto Nuova strada Per Pesaro Al via Uno studio Su tre opzioni Affidato l'incarico All'architetto Balsomini Con un impegno Di 25 mila euro Nei cimiteri Invece Le tombe Adornate dai fioristi Il sindaco Di Colli al Metauro Favorisce Familiari E negozi Anche questo Un tema In questi giorni Molto sentito Anche dai nostri Telespettatori Che ci chiedono Ci fanno domande Ci scrivono A proposito Di come fare E come non fare Dopo l'ordinanza Di chiusura Al pubblico Di tutti I cimiteri urbani Di tutti i comuni Quindi compreso Quello di Colli al Metauro L'amministrazione Guidata da Stefano Guzzi Ha concesso La possibilità Agli esercizi Commerciali Che ne hanno fatto Richiesta O che lo richiederanno Di curare E riordinare Le tombe Per conto Dei loro familiari E dice Stefano Guzzi Ritengo sia importante Andare incontro Al desiderio Delle famiglie Che oltre al loro dolore Non hanno la possibilità Di stare vicino Ai loro defunti In questo modo Invece Nonostante il mantenimento Della chiusura Al pubblico Continueremo A dare dignità Ai vari sepolcri Di Saltara Montemaggiore Serungarina E al contempo Proseguirà Un minimo Di attività Lavorativa Anche per i vari Esercenti Mentre Sotto La notizia Sempre dal Corriere Adriatico Di Fano Di un uomo Che è stato colpito Da un infarto Un uomo di 63 anni Che il 30 marzo Scorso È rimasto vittima Di un arresto cardiaco In casa Lamentava Un dolore toracico Persistente E per questo motivo Aveva attivato Il 118 Dice il dottor Alberto Caverni Che in prima linea Nell'impegno Dell'associazione Fano cuore Per la diffusione E l'utilizzo Allargato Del defibrillatore E così È stato salvato Grazie al defibrillatore Diciamo che È andato tutto bene Adesso l'uomo È tornato a casa E non ha nessun tipo Di conseguenza Pronta piattaforma digitale Da Marotta Per le consegne a domicilio Un'agenzia lancia L'iniziativa A disposizione Gratuitamente Di aziende E cittadini Mentre Sempre da Mondolfo Il comune Distribuisca Le mascherine Le famiglie L'appello di Lucchetti Per tutelare La salute A San Costanzo Invece Ieri pomeriggio È L'offerta Di buoni spesa L'attività proseguirà Anche oggi E domani Dunque c'è la distribuzione Anche nel comune Di San Costanzo Poi il triduo pasquale Sul web A Mondolfo L'arciprete Celebra Online Senigallia invece Uccisa dal marito Dopo 12 denunce I giudici Non restituite Il risarcimento Manca La tutela Dello Stato Mancata tutela Dello Stato La Cassazione Accoglie Ricorso dei figli Processo bis A Catanzaro E poi sotto Il cugino Di Mariana Scusate C'è giustizia Ha ascoltato L'appello Di Carmelo È una storia Un po' complicata Ma se comprerete Il giornale Potrete leggerla È una storia Che trova Finalmente Giustizia L'ultima pagina È quella di Urbino Noi americani A Urbino Con segno infranto Dal virus Il giornalista Steven Anderson Visiting professor Presso il nostro Ateneo È rimasto bloccato In città Con la moglie Infatti Lo vedete Mentre qua Osserva Il panorama Dal soggiorno Di casa E c'è il racconto Che scrive lui E che pubblica Questa mattina Il giornale Appena arrivati A febbraio Abbiamo visto La città Che abbiamo Da sempre Poi però Sono rimasti Lì Sono rimasti Fermi Ad Urbino Tutti dovrebbero Venire qua Da turisti Ma anche Capire Come vivere E poi I reporter Americani Che studiano In città Da anni Ecco qua Alcuni studenti Di giornalismo Con Il premio Ispirato A Raffaello E con questo Chiudiamo qui La nostra Rassegna stampa Grazie per averci seguito Noi ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia E come sempre Se avete Le segnalazioni Da fare Da mandarci Fatelo attraverso Il numero di telefono Che avete appena visto Arrivederci Grazie a tutti